Come si arriva alla relazione stabile e utilizzare quelle che sono le informazioni della sua ex per manipolarlo, magari o proteggerti da eventuali manipolazioni e scoprire i punti che possono farlo ossessionare di te. Questo è quello di cui parleremo in questo video, benvenuta su questo video canale, io sono Federico Picchianti, numero uno esperto in relazioni sentimentali in Italia, aiuto le donne a fare innamorare gli uomini da oltre sette anni, se ti chiedi chi sono io, cerca sui social media, ho più di mezzo milione di followers tra tutti i social media, laureato in scienze ed educazione della formazione con 110 e lode. E adesso scopriamo quindi che cosa può aiutarci a manipolare l'altra persona in modo positivo, utilizzando le informazioni della sua ex e anche come arrivare poi a una relazione stabile nei primi tempi con un ragazzo. Scopriamo tutto in questo video. Sarà un'amicizia? Ciao Federico, sto frequentando da poco un ragazzo, siamo a più cinque uscite, non dico il numero preciso. Per la prima volta è calzante alle mie aspettative, le liste suggerite da te hanno dato i loro frutti. Oh mio Dio, mi sento come homelander in The Boys quando reggo queste cose, quando vedo che voi fate delle cose, ok? Mi sento come homelander, ragazzo, quando è fiero, no? Ok. Vabbè, lasciamo perdere homelander. Fan di The Boys qualcuno? Non mi spoilerate niente, che sto... non lo vedo, anche come ormai sono anni che non vedo The Boys. Va tutto bene, abbiamo appena fatto X, sembra preso e ovviamente investe, quindi avete fatto. Però è un'occasione di un brindisi, mi dice, ah, quello che è il nostro rapporto di amicizia? Mi ha dato un fastidio, ho mantenuto la calma, non mi ha fatto pensare. La stessa sera mi dice che non vuole che lo mandi a quel paese, così ha pensato di provare a trattenersi e essere più freddo per non fare passi falsi. Questo confessato senza che io gli dessi nulla. Che dici? Mi fido e continuo le tattiche? It's not about the tactics, non è di tattiche, qui si parla di riprogrammati, ok? Quindi si parla di approcciarti agli uomini, impostarti con loro nel modo più funzionale per raggiungere gli obiettivi e quindi riprogrammare la tua mente in modo che tu faccia delle cose in modo incoscio e, ripeto, questa cosa io la adotto tuttora nella mia vita, anche in altri ambiti di vita, adesso non nelle relazioni sentimentali, ma in altri ambiti di vita e funziona, it still works, e in modo che tu poi faccia cose in automatico senza doverci pensare. Quindi non saranno più strategie, sarai tu. Faccio quindi queste cose, tipo per esempio dopo averlo fatto posso gustarlo per un giorno, che cosa devo fare? Grazie a te e baci, grazie a te, PS. Il ragazzo fa progetti a lungo termine, mi dice vacanze da prenotare da qui a X tempo, ma questo darlo mi rode, eppure affatti dimostra altro che amicizia, altra pecca, ogni tanto racconta di quanto l'ha fatto soffrire l'ex, come faccio a sfruttarlo a mio favore? Ok, allora che cosa fare quindi se un uomo non è proprio chiarissimo, anche se la cosa sta andando bene, e ovviamente come sfruttare un uomo che si lamenta dell'ex, come sfruttare questa situazione a tuo piacere? Parliamo soltanto del fatto che se un uomo ti sta ovviamente alludendo alla nostra amicizia, potrebbe essere un mini test. Se lui per esempio diceva siamo solo amici, ok, io lo facevo ogni tanto, anche se poi ero stra interessato alla ragazza, perché poi a livello diciamo di esecuzione e fatti ti mostravo tutt'altro. Se possibile prediligi appuntamenti dove il rapporto fisico non si completa, come dico nel corso come fare un passione o non ho letto, non si completa completamente, quindi non va al 100%, va a un terzo, un quarto, un mezzo, scegli tu, ok, come già sai, e ovviamente cerca quindi di diversificare quel tipo di volte in cui state insieme. Ancora di più cerca di, se possibile, concentrarti sull'esecuzione dello stile coppia, cioè del continuare a stare insieme stile coppia. Se vuoi fare innamorare un uomo devi pensare all'idea che state in coppia, che farete cose da coppia, che vuoi fare cose da coppia, e che vuoi che lui continui a investire su di te e che non è scontato che è andato a fare solo quello e a volte lo fate, a volte non lo fate e alternare con un rapporto 1-1-2, per esempio una volta farai il ghosting post averlo fatto, una volta non lo farai, una volta farai un leggero contact di un giorno, una volta non lo farai, perché sei comunque al primo mese e mezzo circa, se non due mesi, dipende, e quindi vuoi aspettare più o meno verso il quarto, quinto, anche sesto mese per progettare un'idea di relazione stabile. E se fa progetti a lungo termine e vuole prenotare cose con te, rafforza quell'atteggiamento di che magari dovresti andarci con calma, ma che si può fare, e che vale la pena sicuramente andare in vacanza con lui e che potrebbe organizzarsi la cosa, dove pensava di andare, e poi esortalo a prenotare. Beh, allora se ne vale la pena ti do la mia possibilità di prenotare la vacanza. Ok? Quindi è come se tu gli dai la sua possibilità. Vai, prenota pure e fammi sapere. E lì scopri se stava scherzando, no ma stavo scherzando, eh no, allora ok, e lo assecondi, oppure prenota veramente. E ancora andando avanti, spingendo di oltre, quando un uomo ti parla della ex e di un fatto che l'ha fatto soffrire, puoi penalizzare la cosa, ovvero dirgli, guarda, mi dispiace molto che l'ex ti abbia fatto soffrire, ma sicuramente adesso sarai in grado di parlarmi anche di cose più piacevoli, perché questa cosa ti fa perdere un po' di punti ai miei occhi. È un vero peccato che ti lamenti sempre dell'ex. Poi, gli uomini che si lamentano dell'ex non sono proprio dei bravi ragazzi, o sbaglio? E questo, thumbs down for you. Ok? Dai, cambiamo argomento. Questo è un modo per penalizzare il ragazzo, trasmettergli un'idea di valore, trasmettergli l'idea che sei tu, che detti l'idea di relazione e conversazione, trasmettergli quali sono quindi i tuoi veri interessi conversazionali, non è parlare dell'ex, tra l'altro l'ex stanno arrivando negativo. Ok? Non penalizzarlo del tipo, sei un maledetto perché parli dell'ex, ma sarà qualcosa del tipo, wow, questa cosa però un po' ti fa perdere i punti ai miei occhi. Posizionati al di sopra di lui e portalo a cambiare il discorso. Quindi puoi sfruttare l'idea che parli dell'ex. E un altro modo per sfruttare l'idea che lui parli dell'ex, suona la campanella. Un altro modo che puoi utilizzare per sfruttare l'idea che parli dell'ex, è sapere, se è possibile, se ogni tanto riesci ad andare a fondo all'idea dell'ex, andare a toccare esattamente i punti dove l'ex lo ha distrutto, quindi lo ha emotivamente legato, quelli saranno i punti che potrai utilizzare a tuo vantaggio. Quindi se per esempio il fatto che l'ex aveva molti uomini che la desideravano, lui ci andava matto e si prendeva sempre di più e te lo confessa, cerca di analizzare se questa cosa è vera o meno, in quel caso tu riuscirai poi ad avere una mappatura su quelle che sono le cose che workano con quella persona. Personalmente a volte lo utilizzate queste informazioni, altre volte le tengo solo nel cassetto, non le ho mai usate in coppia, ma va sempre bene sapere quali sono i talloni d'Achille dell'altro, anche forse per tutelarlo in alcuni casi e in altri invece per specularci sopra.